l'attività libero-professionale svolta all'interno delle strutture e non già, ad esempio, quella svolta nei propri studi privati, dove spesso si effettuano visite, prescrizioni e indagini con ricettario del Sistema Sanitario Nazionale. Non ho altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 7.13 Grillo, parere contrario Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranze, aperta la votazione. Lombardi Ci siamo? Sì. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.14 Colletti. Grillo, onorevole Grillo. Dichiaro voto favorevole. Onorevole Colletti, a titolo personale. Nuovamente chiediamo di inserire la responsabilità della struttura per il fatto a sé stante. Ora, il relatore ci ha detto che già è così. E quindi io mi pongo proprio il problema. Che problema c'è a ripetere magari in questa nuova legge, perché noi stiamo innovando la legge, qualcosa che secondo loro, ma non secondo il codice, già c'è. Visto che politicamente non c'è alcun problema a detta loro, allora potrebbero benissimo chiarire tutto, esplicitare tutto e votare a favore di questo emendamento. Grazie, onorevole Colletti. Onorevole Sannicandro, prego. La necessità c'è di inserire nell'ordinamento. Noi stiamo procedendo, a differenza della maggioranza...